Il museo era in ristrutturazione e l'Underground ne ha approfittato. Finn deve essere lì. Spero di riuscire a vedere l'esplosione. Per cambiare tutto, pista contro la tua città pirana. La tua città pirana. Giù il simbando. La destina ha destabilito. E' il teatro del nobbo. Sei parata? Sto bene. Capito. Vai al teatro del nobbo. Parti fuori! Sto bene. Sto bene. Deve riprendersi. Tiriamolo giù! Forza! Provai a alzarti! Forza! 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 Funziona. Ancora un paio. Sì. Allora andiamo a rompergli. Fin? Sei qui? Era in fondo a quella sala. Cassa dell'Underground. Fin? Andiamo. Dobbiamo risolvere la questione. Io e te. Il progetto è lì. Devo seguire il corridoio. Avanti, Lumaca. Voglio vedere il nostro progetto. Prima di diventare vecchia. Arrivo, arrivo. Ehi, dove ci hanno messo? Ho la mappa del museo nel telefono. Il nostro progetto è in una temporanea all'ultimo piano. Voglio vedere i nostri nomi sulle etichette, come veri scienziati. Oggi, il museo della scienza Oscorp. Domani, i più grandi musei del mondo. La coltura di alghe è fondamentale per la sopravvivenza nei fondali marini. Coltivazioni su larga scala sono già la prassi in numerosi settori commerciali, dai coloranti alla farmaceutica. Chissà di cosa sono le alghe. Di cavolfiore. Io l'odio. Grazie. Non ero mai stata qui. Ringrazio gli scopi di questo video. Quando arriverà, Rick? Ha mandato un messaggio. Stava per prendere la metro. Quindi un tempo variabile tra i 30 minuti e le due ore. Più o meno. Ecco l'ascensore. La temporanea è al piano di sopra. Ma prima curiosiamo in giro. Avete biglietti per la temporanea? Oh, credevo che avendo partecipato non avessimo bisogno del biglietto. Invece sì e sono finiti. Non potete salire. Grazie allo stesso. Ok, quindi come entriamo? I biglietti sono finiti, sentito? Sì, ma vedi quella porta? Dietro c'è un corridoio che gira intorno all'ascensore. Ma non possiamo. Dobbiamo. La mostra finisce domani. È la nostra ultima occasione per vederla. Si, bene, si. Libera nello spazio. Chiusa. Conosco le serrature di quel tipo. Si aprono quando vengono illuminate. Le torce dei cellulari potrebbero funzionare, ma è troppo lontana. Idea, infiliamo una superficie riflettente sotto alla porta. Deve riflettere la luce. Qualcosa di mutevole sarebbe l'ideale. Mutevole? Cioè che cambia forma? I miei complimenti per la tua proprietà di linguaggio. Smettila. D'ora in poi cerchiamo di essere super furtivi. Io sono una maestra dell'inganno. Tu, non tanto. Mentobini, lega a memoria di forma. Posso modificarla con l'app del museo? Questa roba è pazzesca. Eh, ci siamo. Prendila. Non farti vedere. Fatto. Andiamo. Oh, ehi. Scusa. Tranquillo. Serve una superficie riflettente. Gli strumenti esterni comunicano direttamente con il computer nel modulo di comando. Potremmo partire da quest'idea. Il vincitore della lontana. Oh, guarda. Pannelli solari. E dietro sono anche adesivi. Penso io alla luce. Dimmi quando l'adesivo è puntato verso il sensore e l'accendo. Non ci guarda nessuno. Facciamo in fretta. Sì, ha funzionato. Dai. Il progetto ci aspetta. È stato incredibile. Mi mancheranno queste pazze avventure con te. Ma di cosa parli? Pronto. L'anno prossimo sarai alla Brooklyn Visions. Io no. Guarda che non parto per Marte. Ci vedremo lo stesso. E gli impegni? Non così impegnato. Avrò sempre tempo per noi. Promesso. Ok. Ma... Però ora basta con le smancerie. Andiamo di sotto. Ehi, Pa! Ehi, Miles! Salve, signor Davis! Ti saluta Finn. Vi state divertendo? Fate una foto del progetto, mi raccomando. Dai, papà, non è niente di che. Invece è importantissimo. Ok, ok. Gli faremo una foto. Ciao, papà. Ci siamo. Il nostro progetto è in fondo. Il convertitore sarà collegato. Altrimenti sarebbe inutile, no? Ha bisogno di biomassa. Potrebbero usare un cestino dei rifiuti. Il nostro progetto. Oh, 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 ehi! Non ci posso credere. Due veri e propri scienziati di successo. Non avevamo idea che fosse esposto qui. Serve il biglietto. Come sei entrato? Con il biglietto. E voi, invece? Non importa. Venite qui. Ci vuole una foto. Devi esserci anche tu. Ci hai aiutati a parlo. Ok, ok. Bene, bene, bene. Fatti là. Perfetto. Dite a Lely! Non lo dirò mai. Finna, devi starmi a sentire. Ho smesso di darti ascolto. Devo dirle del reattore, ma non mi ascolta. Non ti marmerai! Non deve seguire Diker! Non puoi farci! La pezza di usare! Guarda che avvenire a me! Non puoi farci! 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 Andiamo! È il mio museo preferito! Balla veloce! L'Underground è qui e ho visto un blindato della Rockstone. Tutte le uscite di Harlem sono bloccate. Dove sei? Vicino casa tua. Sto cercando un rifugio. Vai alla bodega di Theo. Arrivo subito. Ok. Terremo tutti al sicuro. Devo liberarmene prima di tornare ad Harlem. Arriva! Troppo veloce! Perpiavolo! Non lo scheggia! Carmi in ordine! Calmi in ordine! Capami in ordine! Coppa! Ma lavorare! Calmi in ordine! Gli in ordine! Corchi! Vorsa! Guardate! Guardate! Scatolini! Guardate! Prende sangue come tutti noi! Prende sangue! E' tuo questo! Un preso! La storia è già... Devo tornare ad Harlem. Subito. Prima che Finn distrugga il reattore. Genki, aggiornami! Come procede l'evacuazione? Ma... La Rockson e l'Underground sono ovunque. Sembra una guerra. Stai bene? E mia madre? Siamo arrivati... una pochettina di persone, ma... Ti ricevo male! Genki! Dove siete? Se mi senti, sto arrivando! Resisti, amico mio! Tieni duro!